yugio tutti duellanti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi sono qui per annunciarvi il nuovo nazionale di yugio che si terrà dal 7 al 9 di giugno mi spiace ovviamente per i bolognesi però questa volta a forlì ebbene sì ragazzi l'evento rispetto agli anni passati verrà aperto un giorno prima in modo tale che se volete testare se volete incontrarti potete farlo tranquillamente poi nel senso ci sono pure io se volete fare quattro chiacchiere o qualche partitella io sono sempre disponibile parlando adesso dell'evento ovviamente ragazzi ci sarà il main event che è l'evento più importante e si delineerà un po il meta del periodo poi ovviamente oltre al torneo ci saranno tutti i 6 event con tornei ovviamente standard time wizard e un nuovissimo 3v3 poi ovviamente se non volete farli perché siete tristi per comandato il torneo a 20 minuti c'è il mare andate lì ve la godete tranquillamente per concludere spostiamoci adesso un attimo sul meta e parliamo di cosa probabilmente andremo a beccare probabilmente considerando i mesi passati sicuramente continueremo a trovare fire king nei caisse e probabilmente anche despia senza contare poi che usciranno anche supporti voice less voice che renderanno il mazzo ancora più interessante e ovviamente non dimentichiamoci dei supporti yube che usciranno e per concludere non dimentichiamoci ovviamente di tenpai che ragazzi uscirà nella prossima espansione e al nazionale sicuramente potremo vederlo visto che è un mazzo interessante e riesce a fare otk molto facilmente sicuramente io ci sarò però ancora il mazzo non l'ho scelto quindi non vi posso dare qualche info intanto fatemi sapere voi ovviamente se ci verrete e che mazzo porterete e noi ragazzi ci rivediamo sempre qua domani con un nuovo video ciao a tutti